Il 3 e 4 ottobre prossimo milioni di italiani saranno chiamati alle urne per rinnovare tante amministrazioni comunali di realtà piccole, medie e grandi. In Lizza ci sono anche realtà grandi come Milano, Roma, città che da sole valgono come un ministero nell'ambito del peso del Manuele Cencelli e tra le altre ci sono anche parecchi collegi senatoriali e della Camera dei Deputati che devono andare in elezioni supplettive. Bene, in questo contesto i partiti stanno scaldando i motori per cercare di gestire il consenso e di fare molta captatio benevolenza e soprattutto per cercare di spacciare come successi quelli che sono in realtà dei fallimenti. Cari amici vicini lontani, bentornati a questa puntata dello schiacciassassi da parte di Stefano Elena e se starete con noi fino alla fine della puntata vedrete anche come il nostro Domenico La Cava interpreta a modo suo, graffiante ed ironico come al solito, la situazione. Dicevamo appunto dell'appuntamento elettorale del 3-4 ottobre. La temperatura, nonostante il periodo di fine vacanze, è già abbastanza alta tra le figlie dei partiti e infatti ormai non si nascondono più tutti i vari strategie e tutti i vari mezzi per cercare di conquistare un consenso che sembra decisamente calante. Anche se tutto sommato i vari sondaggi che si stanno facendo in questi giorni vedono alle varie almeno quattro forze politiche che si barcamenano attorno al 19-20-21% come Lega, Fratelli d'Italia, PD. Sono tutte formazioni sono tutte formazioni che stanno cercando di conquistare nuovamente il potere, confermare amministrazioni uscenti ed eventualmente conquistarle. E per vincere non si badano naturalmente anche a qualche piccolo sgambetto o anche qualche piccolo mezzuccio. Ovviamente è tutto legale però sai com'è a pensare male. Ebbene, vediamo subito che a Roma, dove c'è la competizione per il rinnovo del Consiglio Comunale, dopo cinque anni di gestione fallimentare che è stato un fallimento al fallimento delle gestioni precedenti di Virginia Raggi, prima sindaco grillina della storia e forse anche l'ultima, vediamo che il PD è particolarmente attivo per cercare di conquistare il consenso, anche perché è tampinato a stretto giro dal candidato del centrodestra e poi anche all'interno delle file del centrosinistra ci sono altri candidati che stanno crescendo e stanno erodendo i consensi al candidato sindaco del PD, l'ex ministro alle finanze Roberto Qualtieri, il quale ha letteralmente battuto cassa in ogni dove per cercare di conquistare il consenso. E in ultimi, nell'ordine del tempo, è anche il bel gesto da parte del presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, il fratello del più noto commissario Montalbano ovviamente, che ha pensato niente po' di meno che recuperare in un'asta fallimentare un immobile occupato da un'associazione di femministe notoriamente vicine alle fila del PD, le quali ovviamente non potranno che ringraziare del gesto doveroso ovviamente per sostenere e assistere le donne vittime di violenza, però sai com'è, in un periodo come questo, questo gesto poteva essere fatto precedentemente oppure aspettare qualche settimana dopo l'appuntamento elettorale. Così, tanto per non inficiare la trasparenza del voto e anche il giusto, diciamo così, convincimento degli elettori. Ma se da una parte Zingaretti ha aiutato in anticipo il suo collega di partito Gualtieri nella corsa a sindaco di Roma, viceversa, in un'altra parte del paese per le supplettive della Camera dei Deputati, viceversa si ritarda. Ma perché si ritarda? Perché se si dovesse fare anticipare come dovrebbe essere l'acquisto da parte dell'Unicredit, del banco del famoso Monte di Paschi di Siena, beh, qua qualcosa cambierebbe e tanto, perché nel piano di acquisto da parte di Unicredit della banca è previsto un bel bagno di sangue da parte della forza lavoro in servizio alla banca. E sappiamo tutti che perdere 5-6 mila posti di lavoro, soprattutto nella sede del banco di Siena, che è appunto Siena, guarda caso, sede del collegio dove si va a votare e guarda ulteriormente caso, è dove si è candidato un pisano che risponde dal nome di Enrico Letta incidentalmente segretario pro tempore del PD, e beh, la cosa è un pochettino così, fa sorridere. Anche perché alla guida dell'Unicredit c'è niente po' po' di meno che un certo signore ex ministro della finanze che guarda caso era stato proprio colui che era stato eletto a Siena e che da quando è stato eletto presidente dell'Unicredit ha dovuto mollare il seggio e questo seggio sta partecipando appunto Letta in attesa appunto di ritornare nella politica attiva a pieno regime dopo la parentesi del Champs-Pos in Francia. In questo frangente l'aiutino del presidente di Unicredit, ex ministro PD alle finanze ed ex deputato del collegio di Siena, sta nell'aver posticipato l'acquisto del banco del banco Montepaschi di Siena a dopo il ballottaggio ovviamente, perché se per caso dovesse aver fatto l'acquisto precedentemente, come peraltro imponeva anche le regole dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato, e beh, votare subito dopo aver tagliato di 5-6 mila posti l'organico della banca proprio nel proprio collegio elettorale avrebbe avuto un bel sapore da Karakiri in piena regola. Ecco, la politica politicante è fatta di tutti questi mezzucci dove i partiti non disdegnano, tutti i partiti ovviamente, senza fare nessuna selezione, non disdegnano quando sono al potere di utilizzare legittimamente tutti i vari mezzucci che sono loro concessi. Però bisognerebbe incominciare anche a capire che la gente forse non è più tanto stupida e soprattutto nel caso anche del Collegio di Siena, un senese votare un pisano è come un livornese, c'è un pochettino di malumore da questo punto di vista. Ecco, come se ne può uscire? Bisognerà vedere come verranno fatte le elezioni, però sicuramente dal voto di parecchie decine di milioni di elettori italiani qualche equilibrio, qualche misurazione del termometro della politica si vedrà. Si vedrà soprattutto anche perché in questi giorni, subito dopo le dimissioni del sottosegretario al Ministero di Economia, il leghista Durigon, adesso c'è il leader della Lega, Matteo Salvini, che è finito sullo spiedo e sta rosolando a fuoco lento e se lui non riesce a portare a casa una qualche vittoria di facciata, come le dimissioni del ministro all'interno Lamorgese, la cosa sta diventando parecchio difficile per lui. Tant'è vero che anche la scorsa battaglia per la sostituzione del ministro della Sanità, Roberto Speranza, è finita di nulla di fatto e da questo punto di vista non bisogna sottacere il fatto che nell'anima della Lega, di questa Lega che è diventata un Moloch nazionale o sperdendo la propria origine primordiale del partito a difesa degli interessi del Nord, proprio da quel Nord che era stata la sua base sta montando sempre più un malanimo, un dissenso nei confronti dell'attuale segreteria e qualcosa anche Salvini deve incominciare a preoccuparsi e incominciare a cambiare linea politica, perché la sua avanzata verso Sud ha avuto sì il successo di far crescere complessivamente la Lega, però a scapito del calo di consensi a Nord, dove c'era la sua culla. Cari amici vicini lontani, vi avevo annunciato di come della vignetta del nostro dominio, la Cava, andiamo a vederla. La Cava prende esempio della vecchia detto dei Santi in Paradiso e in questo caso qua chi va a fare le orazioni, i voti ai Santi in Paradiso e niente po' di meno che Enrico Letta, nella duplice veste di segretario del PD e anche di candidato alle elezioni supplettive nel Collegio di Siena del PD stesso. E a chi ci si rivolge? Niente meno che a San Padoan, con una bella vignetta in cui dice Padoan dell'Uni Credit, aiutami tu. Ecco, sarebbe bello che le banche aiutassero veramente tutti quanti, soprattutto quelle imprese che al giorno d'oggi cominciano ad essere di nuovo con l'acqua alla gola per la via della carenza della liquidità. Cari amici vicini e lontani, anche questa puntata lo schiacciassasse giunge al termine. Prima di salutare vi ricordo di iscrivervi al nostro canale per darci la forza per poter andare avanti con questa voce autorevole, fuori dal coro, indipendente. Da parte di Stefano Lena un saluto e arrivederci alla prossima puntata. Ciao!